c mark produttore distributore numero uno online in francia presente dal 1964 numero uno online dal 2010 12 atleti elite francesi e adesso anche il trm team con quattro atleti elite e tre coach bene ragazzi eccoci pronti per l'apertura l'unboxing del primo pacco dello sponsor 2020 partiamo dalla testa e scendiamo i test saranno due coach e un atleti elite cappello headband occhiali stile killian divisa uomo divisa donna giacca 10.000 colonne d'acqua traspirante pronta per le ultra da 167 calze per gara ovviamente calze recupero post gara e adesso il pezzo forte novità assoluta scarpa con tre soletti di drop diverso che vanno inserite all'interno della scarpa suola vibra utilizzate dal vincitore oman putembe 2019 da provare vi faremo sapere keep in touch